in vista delle elezioni evento elettorale con il leader della lega di fronte alla banca sono qui in difesa di ogni singolo posto di lavoro legato a mps raccoglieremo le firme che porterò personalmente al presidente draghi perché mps diventi insieme ad altre banche il terzo polo bancario di questo paese non accettiamo svendite lo ha detto il leader della lega matteo salvini a siena parlando con i giornalisti a margine di un comizio elettorale di fronte a rocca salimbeni sede di banca mps a sostegno del candidato di centrodestra tommaso marrochesi marzi in vista delle elezioni suppletive nel collegio toscana 12 la banca più antica del mondo non merita questa fine ha aggiunto salvini riferendosi all'ipotesi di acquisizione da parte di unicredit seletta si candida qua inventandosi un simbolo senza il pd e pensando di aver già vinto secondo me sbaglia anche gli inglesi pensavano di aver già vinto la finale degli europei ha poi detto salvini nell'incontro elettorale a sostegno del candidato di centrodestra alle elezioni suppletive tommaso marrochesi marzi parigi lo aspetta e faremo in modo che possa tornare là dove si trovava prima ha aggiunto salvini